la giornata è un po' magra però qua c'è un bel mostro cioè che roba che bestia bellissimo questo è veramente, ve lo faccio vedere al sole notevole che bomba venerdì 20 agosto sono quasi le 8 qua abbiamo il primo porcino della giornata un po' avanti ma buono da seccare oggi la giornata è cominciata tra mille difficoltà ma finalmente una bella soddisfazione che bomba bellissimo fantastico grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti altro buono da seccare guardate che muscaria bellissima qua ce n'è un'altra e l'ha un'altra ancora che belle qua abbiamo un bel pezzo finalmente qualcosa di un po più fresco bello guardate qua che bella bombetta bellissimo un po maggiunchiato ma sanissimo guardate che bella bombetta che abbiamo qui qua ragazzi siamo arrivati troppo tardi un vero peccato perché ormai sono marci pazienza questo questo un po avanti ma almeno si può seccare abbiamo un piccolino ma lo lasciamo crescere ancora un po sarebbe quasi a misura ma è lo stesso il fungo delle 14 e 14 che meraviglia fresco e sano anche questo bellissimo pomeriggio inoltrato ho trovato questo questa bella bomba cappella tutta mangiucchiata ma tutto sommato non mi posso lamentare sono le 14 43 di venerdì 20 agosto per oggi basta trovato bellissimi pezzi ma tanta tanta fatica speriamo che la settimana prossima arrivi una nuova buttata vi ringrazio di aver guardato il video iscrivetevi al canale e non perdete le prossime uscite grazie a voi Grazie a tutti.